Ben ritrovate, cari amiche e cari amici, con le novità dal mondo Noodler. Da oggi stop allo spiumaggio. Quelle brutte macchie diffuse sulla carta, quei tratti frastagliati e le gradazioni irriconoscibili sono solo un lontano ricordo. Grazie alla nuova formula potenziata di Noodler X Feather, da oggi le vostre problematiche... Va bene, bando alle telepromozioni e torniamo in noi. Oggi parliamo di questo inchiostro, il Noodler X Feather, ma già promette molto, è un inchiostro stilografico che dice stop allo spiumaggio. Questo non è infatti, ci dice Noodler, il classico nero standard, ma è stato formulato per avere dei tempi di asciugatura meno rapidi. Questo rende l'inchiostro resistente nel tempo anche su carte più assorbenti. Sarà vero? Io l'ho messo alla prova un po' in tutti i modi e vi farò vedere. In effetti, non smentisce quelli che sono i proclami, quelle che sono le aspettative che il pubblico legittimamente si fa. Un inchiostro nero che non spiumi, un inchiostro nero anche bello deciso come questo, fa gola a molti e allora vale la pena metterlo subito alla prova. L'ho caricato sulla Sailor Casual, quella con il pennino in acciaio, un pennino tra l'altro particolare, quello Zoom. Un pennino generoso, dal tratto senza dubbio più largo di altri. E inchiostri come quelli Noodler che sono spesso propensi anche a dare una scorrevolezza parecchio generosa alla penna, vedo che invece mantiene il tratto nominale così come lo fanno altri inchiostri che ho provato su questo pennino. Uno stacco deciso, un nero profondo. L'ho già detto, forse non è il più nero fra tutti i neri che ho provato nella mia esperienza, però come vedete si legge benissimo anche su una carta che è leggermente puntinata come questa Rodia. Ammetto che non riesco a percepire, mentre sto scrivendo, una formulazione così particolare. Una formulazione che, a detta di Noodler, mette al riparo dallo spiumaggio. Allora, lo spiumaggio va ricordato che non è solo una prerogativa dell'inchiostro, tutt'altro molto spesso è attribuibile alla carta, altre volte al pennino, perché ci sono dei pennini che per esempio, quelli molto taglienti, incidono sulla carta disgregando le fibre superficiali e generano inevitabilmente un tratto frastagliato, quello che poi viene notato come uno spiumaggio. E altre volte invece è proprio l'inchiostro. L'inchiostro così liquido, così poco denso, che si sparpaglia superficialmente invece che andare ad affondare nella profondità delle fibre della carta. Prima di andare a vedere come si comporta, un breve passaggio sul calamaio, un calamaio che ormai conosciamo bene, il calamaio da 90 millilitri della Noodler, come sempre fate attenzione quando lo aprite perché sono rabboccati fino proprio al collo, quindi aprirlo appoggiato in piano senza scossoni perché è colmo di inchiostro. Il prezzo, 14-15 euro, è un prezzo che tutto sommato è conveniente, cioè il rapporto di questi 90 millilitri per quello che paghiamo è assolutamente positivo e lo mette al di sotto, nella classifica dei costi, al di sotto di molti altri inchiostri. E allora, come funzionerà? Sulla bella carta Rodia siamo capaci tutti, lì spiumaggio è difficile farlo saltar fuori. Proviamo invece con un blocco di carta comune, una carta da 70 grammi, un po' più grezza, meno rifinita. Vediamo se questo pennino col flusso così abbondante mette in difficoltà, crea quell'effetto di spiumaggio, però fino a questo momento non vedo affiorare niente, vedo un tratto ben compreso negli ambiti della grandezza nominale. E allora proviamolo qua. E qui effettivamente c'è qualcosa di incredibile, nel senso che riesco a scrivere con un pennino zoom, non dimentichiamolo, su uno scoltex, quindi su una carta assorbente. E come vedete lo spiumaggio non c'è perché il mio tratto, voglio provare persino in reverse nib, e nemmeno così, e allora sta a vedere che veramente questo X-Filter di Noodler ha colto nel segno. E allora è vero che si asciuga un pochettino più lentamente, perché è chiaro che non si può avere la quadratura del cerchio, però funziona davvero, cioè lo spiumaggio che molti inchiostri, o comunque su molte carte, appare, chiedo scusa, qui è assolutamente allontanato, un rischio che non compare. Fra l'altro si porta dietro anche una buona profondità, una saturazione, un carico, niente male per essere un nero che ha comunque una specializzazione. E allora vale la pena ricordare, come sempre, che ogni volta che ci spingiamo in acquisti così particolari, devono avere anche una loro logica riscontrando delle esigenze reali, perché altrimenti, forse, possiamo trovare un nero che risponda maggiormente a quello che è un criterio estetico, un criterio di scorrevolezza o comunque di impatto dinamico sulla penna, però sono rimasto sorpreso, effettivamente non immaginavo che questa formulazione mi avrebbe messo a riparo persino scrivendo sulla carta assorbente. Resta comunque un inchiostro che ben si adatta anche ad altri tipi di pennino, perché lo sto provando adesso con il pennino extra fine, sempre di Sailor, sebbene si tratti della collezione light, quindi un pennino in oro a 14 carati. Come ripeto, non si sente alcuna differenza nella scrittura, cioè non si avverte questa formulazione così particolare. Però, pur essendo un bel nero, se vado alla ricerca di un nero, posso anche guardare da altre parti. Se invece ho proprio l'esigenza di avere un inchiostro che non spiuma, beh, cari amici qua, direi che la missione è completamente compiuta e assolutamente anche andata a buon fine. Quindi brava Noodler che ci mette a disposizione questo inchiostro, io vi lascio qualche immagine e ovviamente vi saluto, questa volta sono saluti inchiostrati che non spiumano. Ciao!